Ehi, Jay, sei qui? No, se n'è andato da un'ora. È successo qualche... Ehi, a cosa devo questo? Voglio dire, non che mi lamenti, ma... Credo solo che... cioè, penso che sia arrivato il momento. Il momento del sesso? Sì. Alexander, ho avuto molte esperienze, ma... Non mi era mai capitato di sentirmi così vicino a qualcuno. E ho paura che... Che se affrettiamo le cose... Tu potresti allontanarti. Cosa? Perché lo pensi? Ascolta... Non sei l'unico a essere vulnerabile. Magnus... Non hai nulla da temere. È quello che voglio.